La polizia nei giorni scorsi ha concluso un'operazione finalizzata alla prevenzione e alla repressione dei reati contro il patrimonio causati da una banda specializzata in furte e danni di esercizi commerciali e attività produttive. L'operazione ha tratto in arresto tre moldavi di cui un 45enne e due ventenni dopo vari servizi di pattugliamento. La mobile ha avuto modo di notare la presenza soprattutto in orari notturni mercoledì scorso di alcuni veicoli sospetti nella zona di Bellocchi. Dalle indagini è emerso che il furgone condotto dalla banda risultava rubato lo scorso anno nella provincia di Ancona, utilizzato dai malviventi per effettuare sopralluoghi nelle diverse zone della città e nell'entroterra fanese. L'attività di osservazione e di pedinamento ha consentito alla mobile di osservare il modus operandi dei ladri che utilizzavano ulteriori due veicoli in supporto del primo, con la tipica modalità criminale delle autostaffetta, allo scopo di segnalare in anticipo l'eventuale presenza di pattuglie delle forze dell'ordine. La rifurtiva ritrovata è tutta relativa ai furti appena compiuti nella zona di Bellocchi, nelle tre aziende, soprattutto computer, ma riazzavano veramente di tutto, dai soldi ai computer a tutto ciò che era contenuto nelle varie macchine che contenevano le merendine o le bibite, prendevano di tutto, soprattutto materiale high tech che potevano rivendere e portare all'estero e quindi cercare di tirare su molti soldi. Il blocco delle auto è avvenuto nei pressi del casello autostradale di Fano, dove in un primo momento i malviventi hanno tentato di colpire la mobile tentando la fuga. Nonostante una delle autostaffetta che aveva fatto ingresso in autostrada dirigendosi in direzione nord è stata bloccata dalla polizia e due occupanti sono stati tratti in arresto. Il secondo veicolo della banda, invece diretto ad alta velocità in superstrada uscendo allo svincolo di Lucrezia, è finito in un fossato nel tentativo di sfuggire all'inseguimento degli agenti. Il malvivente alla guida ha tentato di allontanarsi a piedi ma subito dopo è stato bloccato dagli agenti dopo una collutazione che ha ferito questi ultimi, mentre il terzo mezzo con il quarto componente è riuscito a fuggire verso Fano facendo perdere le proprie tracce. I tre ladri identificati senza fissa dimora sul territorio nazionale sono stati arrestati con l'accusa di furto aggravato, resistenza pubblico ufficiale, lesione e ricettazione.